Ciao a tutti, video velocissimo per mostrarvi il Midori che ho appena acquistato da Tiger. Fa parte dell'ultima collezione che è uscita da pochi giorni nei negozi. Ci sono diverse fantasie in negozio, quella che ho scelto io è appunto questa in riche bianco e nero, poi c'è un'altra versione con degli occhi disegnati sempre in bianco e nero, e due a tinta unita, uno azzurro ed uno verde acqua. La copertina è realizzata in cartone e all'interno troviamo una cartellina, sempre di cartoncino, con da una parte una busta e dall'altra parte la classica taschina. Gli inserti presenti sono due, uno a righe e l'altro a quadretti molto piccoli. Indipendentemente dal colore di copertina che scegliete, gli inserti sono uguali per tutti i modelli. Gli inserti inoltre misurano 19,5 x 10 cm e il costo di questo Midori è di 3 euro. Ciao a tutti!